Per il workshop di Infoprogetto ci troviamo a Bolzano, è il 29 maggio 2018 e parliamo di progettazione e riqualificazione, normative, tecniche e uso dei materiali in questa giornata formativa che ha visto la presenza di numerose aziende e oltre 100 progettisti che hanno partecipato ai lavori. Abbiamo anche ascoltato gli interventi scientifici di architetti interessanti e importanti, vediamo. Sicuramente è un tipo di architettura apprezzato, è un tipo di architettura dove convive la natura con gli esseri umani e con le altre specie. Per noi è molto importante lavorare in complesso con le tre strategie, sia con la progettazione nuova di edifici nuovi e le città nuove, che con lo sviluppo delle aree agricole e anche con la riqualificazione del patrimonio edilizio già presente nelle città. La tecnologia deve servire a riavvicinarci alla natura e a cercare di rendere le nostre città più vivibili e più sostenibili, di non sostituire tutta la natura con le superfici minerali.